ecco buongiorno abbiamo avviato la registrazione abbiamo con noi oggi il professor Piero Giorgio Donatelli che è ordinario di filosofia morale alla sapienza qui a Roma e oltre che professore ordinario è direttore del dipartimento di filosofia e dirige anche la rivista Iride il professor Donatelli ha pubblicato su moltissimi temi della filosofia morale sia dal punto di vista storico che teorico ha pubblicato, si occupa di temi legati appunto alla storia dell'etica, allo statuto dell'etica questioni della soggettività, delle forme di vita e sempre con editori molto prestigiosi in Molino, la terza e in Audi. L'invito di oggi nasce precisamente da uno dei suoi ultimi lavori e dal titolo La filosofia e la vita etica che è uscito da in Audi l'anno scorso perché in quel libro, in particolare nella prima parte di quel libro il professore fa un'operazione molto interessante, traccia una storia dell'etica descrivendo nell'emancipazione in età moderna prima dalla religione e poi anche dalla politica e questo però in un secondo momento, questa seconda emancipazione della politica è molto più recente, si compie alla fine del ventesimo secolo sostanzialmente e fa vedere come questa emancipazione dell'etica che è qualcosa di buono per l'etica ma anche qualcosa di problematico, nel libro questo emerge molto bene e questa emancipazione in qualche modo consente quello che appunto il professore chiama progetto umanistico e cioè sostanzialmente in età moderna con l'emancipazione dell'etica dalla religione si apre lo spazio per uno spazio politico, di libertà politica, di uguaglianza che consentono un progetto umanistico a livello personale inteso come dare forma alla propria vita ma anche a livello collettivo come in qualche modo dare forma al futuro, anche se questo progetto umanistico a livello collettivo oggi è molto sfidato da alcune tentazioni pessimistiche, le chiamerei così, rispetto alle quali il libro prende posizione in termini diciamo di sfida nel senso che emerge molto bene come quelle ragioni del pessimismo cioè di un pessimismo nel rispetto alle nostre possibilità di intervenire sulla realtà di trasformare il mondo in meglio, trasformare meglio il futuro in realtà non siano così fondate. Ci sono anche molte considerazioni che ho trovato personalmente molto interessanti appunto su come dire sui problemi dell'etica, problemi interni, problemi esterni, moralismo, cinismo, su quest'ora non mi soffermo ma magari se poi ci sarà modo ci ritorneremo nella discussione perché sono tutte questioni molto interessanti. Lascio ora la parola del professore che appunto ci parlerà dell'etica e del progetto umanistico. Grazie tante Pier Giorgio per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie al professor Bianco e anche alla professoressa Papo Sogli. È un piacere di essere qui diciamo virtualmente ma anche in qualche modo immaginativamente presente a Roma a questo contesto di questo vostro dottorato quindi veramente grazie, è una cosa molto importante e mi è molto utile disporre le mie idee in conversazione con voi. Provo a fare quello che ha già detto ora il professor Bianco, vale a dire un po' di ripercorrere alcune idee che ho tracciato poi in questo mio ultimo libro, la filosofia e la vita etica che sono state ora in effetti anche un po' riassunte, evocate. Quindi l'idea di progetto umanistico, il vostro è un dottorato sul concetto di umanesimo che è un concetto molto importante e su cui evidentemente avete una competenza anche che io non ho e quindi non faccio le premesse, non richiamo le premesse, chiaramente è un concetto che si può collocare storicamente in diversi momenti, quindi evidentemente uno immagina facendo la storia locale europea, adesso bisogna essere in grado di fare anche altre storie locali, la storia locale indiana, la storia locale cinese e quindi evidentemente ora siamo chiamati tutti a fare delle storie in cui intrecciamo linee di civiltà che non sono quelle locali dove uno si trova, ma per fare la storia locale europea evidentemente il concetto di umanesimo ha un momento greco che può essere protagora, che è evidentemente poi anche l'inizio della filosofia con Socrate e quindi diciamo Socrate che interroga filosoficamente saperi, modi di vivere, interroga l'io fondamentalmente portando a un campo di ragioni e di pensiero che è quello in prima persona della propria individualità, dell'individualità dei suoi interlocutori in maniera in qualche modo indipendente, alla fine della religione verrà accusato di impietà e verrà ucciso per questo e anche dalla politica, quindi c'è una indipendenza della filosofia che viene in qualche modo affermata ai suoi esordi con Socrate che è anche una indipendenza dal punto di vista degli esseri umani sul mondo e sulle cose e questo è certamente un momento che inaura. Un altro momento che è noto a tutti è poi l'inizio, la primissima modernità italiana e europea, quindi l'umanesimo, quello che noi chiamiamo umanesimo, l'umanesimo di Rinascimento, quindi insomma che è una riscoperta di classici, riscoperta di metodi di lettura, riscoperta di una misura umana delle cose in qualche modo critico verso gerarchie e questo è un altro momento storico che potremo verificare. L'umanesimo poi, volendo saltare, sono tutte cose di cui io non parlerò, torna e questo forse ha un rilievo, un momento più interno al discorso che vi farò, ma comunque non lo tocco, nel Novecento perché poi l'umanesimo a un certo punto del Novecento, come sappiamo, è un oggetto critico, c'è un bersaglio critico e quindi grandi filosofi come Heidegger e poi grandi movimenti culturali, con una tessitura filosofica molto presente ad esempio in Francia, prenderanno l'umanesimo e quindi grandi filosofi legati a Lacan, legati a Derrida, legati a Foucault, prenderanno l'idea umanistica come un bersaglio polemico, come un bersaglio critico. Va bene, non parlerò di nessuno di queste cose che sono chiaramente di punti di partenza abbastanza cruciali per fare un discorso sull'umanesimo in chiave di storia della cultura filosofica, anche se sono in diversi modi pertinenti e provo a svolgere con voi delle idee poi molto generali, che vi sono certamente familiari, ma con un filo, ecco. Il filo è quello di pensare che il concetto di umanesimo è ancora pertinente per noi. Pertinente per noi da che punto di vista? Beh, innanzitutto dal mio punto di vista di filosofo morale che si occupa di una serie di cose che riguarda appunto l'etica nelle nostre società contemporanee e in particolare in alcuni settori, ad esempio nella bioetica e quindi questo grande cambiamento nei modi in cui noi concepiamo gli esseri umani, perché questo poi è la bioetica, in fasi cruciali come la sessualità, come l'essere portati al mondo, il venire al mondo, l'essere portati al mondo e poi nell'andarsi, nel morire, ma anche poi nella malattia, nella vulnerabilità. Quindi la bioetica è certamente un campo interessante e un altro campo interessante è questo su cui adesso poi tutti parlano, c'è una grande discussione, qualcosa in cui siamo immersi, ma forse in maniera non ancora chiarissima, che è tutto il tema, diciamo, delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, no? Che adesso è molto, anche se volete, anche di moda parlarne, è una sorta di slogan che rientra in qualsiasi discorso pubblico, ma che in effetti è qualcosa che sembrerebbe che in effetti sta proprio trasformando il mondo, no? Starà trasformando le nostre vite come le nostre vite sono state trasformate anche, poniamo, tornando al campo della bioetica, all'inizio della vita, alla fine della vita, quindi insomma non c'è nessuna cosa strana, l'umanità, come dire, sono stati impresse di grandi cambiamenti dai processi tecnologici e culturali, ora sembrerebbe che ce n'è un altro grande che, come dire, viene impresso di cambiamenti all'umanità. Questi temi come campi di studio e problematiche, come quello della bioetica o delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, a mio modo di vedere, chiamano in causa abbastanza direttamente il concetto di umanesimo e come possono chiamarlo in causa? Allora vi propongo un po' una mia idea, ecco, la mia idea è di pensare che sul piano sia descrittivo che normativo potremmo pensare di difendere qualcosa che attiene al concetto di umanesimo, quindi vi propongo ora una storia, se volete, che è una storia descrittiva, cioè una ricostruzione di alcuni fasi, di episodi intellettuali che riguardano poi la storia dell'Europa, dalle quali trarre anche però l'idea, delle idee normative su che cosa è buono, quindi diciamo da una parte una qualche tipo di ricostruzione descrittiva, una ricostruzione di come sono andate le cose e dall'altra una proposta normativa di quello che effettivamente è una situazione buona per gli esseri umani. A mio modo di vedere, diciamo, nella modernità, non forse nella prima modernità del 4-500, ma nella modernità che inaugura l'etica, la politica moderna, cioè dal 600 in poi, emerge quello che io vorrei chiamare progetto umanistico, che sono poi i grandi classici della filosofia morale e politica che tutti conosciamo, che sono stati tematizzati in tantissime, diciamo, prospettive, che sono Hobbes, che sono Locke, che sono Rousseau, che sono Hume, che sono Kant e poi arrivando all'800 John Stuart Mill, quindi insomma i grandi, diciamo, classici del pensiero morale politico, il 600 e il 700 sono chiamati i cosiddetti secoli d'oro del pensiero morale perché ci sono delle teste, delle elaborazioni intellettuali raffinatissime che sono ancora per noi fondamentali per pensare all'etica e alla politica oggi. Benissimo, allora noi potremo provare a tornare a questi autori che documentano un percorso anche, diciamo, di evoluzione storica di idee intellettuali che riguardano il progetto umanistico e pensare di ricavare anche un'idea di progetto umanistico che possiamo provare a difendere. Quindi queste due cose vorrei provare a fare. Quindi io personalmente penso che noi abbiamo, sempre per fare delle premesse, noi abbiamo in qualche modo maturato un'idea di progetto umanistico che potremo provare a difendere. È un'idea di fatto recente, anche se affonda le sue radici in tante storie di più lunga durata, è un'idea recente che potremo provare a difendere e che in effetti se non difendiamo potremo anche perderla. E in effetti poi anche nel mercato, per usare un'espressione forse un po' volgare delle idee e delle sperimentazioni politiche globali, è un'idea che potrebbe anche poi avere la peggio e quindi potremmo anche perdere questa idea di progetto umanistico rispetto a esperimenti culturali e politici che non hanno a che fare con l'idea di progetto umanistico. Che cosa intendo? Quindi presentiamola con progetto umanistico. Allora veniva ora detto da Stefano che lo aveva già un po' presentato, diamo una specie di definizione, pensare alla società e alla vita individuale come un progetto, cominciamo così, possiamo pensare alla società come il risultato di un progetto umano dove c'è un investimento intellettuale e ovviamente pratico. Quindi la società come frutto di un progetto umano da una parte e dall'altra la vita umana, la propria vita che scorre dalla nascita fino alla morte, la nostra vita che scorre come il risultato di un progetto inventivo ed egualmente inventivo e creativo. Allora queste due idee, la società come progetto e la vita umana come progetto nascono a un certo punto, ora provo a dare delle idee, si intrecciano, le possiamo mettere insieme un po' più avanti, probabilmente le mettiamo insieme quando nasce una qualche idea di democrazia ed è questa idea di progetto democratico che riguarda la vita individuale e la vita sociale che penso che sia un'acquisizione importante e che quindi possiamo ricostruire, ripeto, storicamente facendo una ricostruzione descrittiva e possiamo anche provare a difendere normativamente come un'idea buona per gli esseri umani e che quindi ha dei competitor evidentemente, avrà qualcuno che poi non vuole difendere nel campo, nell'arena della discussione normativa di ciò che è buono per gli esseri umani. Quindi nella ricostruzione che do io, che naturalmente è molto parziale, molto limitata, si potrebbe pensare, diciamo che, quindi diciamo non facendo riferimento ai vari episodi storici con cui sono partito, che forse nell'esordio dell'etica morale e politica moderna è la società come frutto di un progetto, la prima idea che viene in qualche modo elaborata e forse Hobbes, Thomas Hobbes, siamo nel 600, nella metà del 600, questo 600 inglese burrascoso, fatto di rivoluzioni, di Cromwell, di teste tagliate, di instabilità politica e di guerra di religione fondamentalmente, di grande instabilità fondata anche su cristianesimo che non è più un momento unificante, stabilizzante della società, ma è invece un momento di divisione, di lotta e di terrore e di teste tagliate per la strada. In quel 600 turbolento inglese, Thomas Hobbes poi ci dà un'idea della società che poi è molto influente e che viene ripresa un po' da tutti, anche se in modi molto diversi, in genere anche criticandolo direttamente, cioè ci dà l'idea attraverso l'idea di contratto sociale che le istituzioni che fondamentalmente reggono la società e la conservano come un luogo pacifico dove è possibile lo sviluppo delle facoltà individuali, sono il risultato appunto di un progetto, sono il risultato di un piano degli individui a partire da schemi intellettuali che vengono poi realizzati, quindi l'idea di contratto sociale che è l'idea più influente della teoria politica nel 600 e nel 700 e che quindi poi ritroviamo a parte Hume in tutti i classici del 600 e del 700, poi l'idea di contratto sociale è l'idea di Hobbes, è l'idea di Locke, è l'idea di Rousseau, è l'idea di Kant, benissimo, l'idea di contratto sociale è un'idea che possiamo rappresentare attraverso questa idea che vi propongo di progetto umanistico, vale a dire pensare alla società come costruita dagli esseri umani, quindi qual è l'immagine? Gli esseri umani non hanno governo, non hanno istituzioni, sono nello stato di natura, lo stato di natura è definito proprio come il luogo dove non ci sono istituzioni politiche, dove gli esseri umani abitano senza istituzioni politiche, non avendo le istituzioni politiche sono esposti a tutta una serie di rischi perché hanno bisogno di cooperare e non sanno come farlo e il contratto sociale è l'idea di consensualmente, a partire dalla ragione di ciascuno di questi individui che stanno nello stato di natura, costruire le istituzioni che gli consenteranno di cooperare e di creare quella che Thomas Hobbes chiama la società civile, il Commonwealth, dove la cooperazione è resa possibile in particolare da Hobbes dall'esistenza appunto di istituzioni politiche di un sovrano e di leggi positive. Ora è un momento secondario che il sovrano che descrive Hobbes per i nostri gusti contemporanei sia abbastanza assolutistico e certamente non sia democratico, il punto fondamentale è che le istituzioni politiche che generano per Hobbes quella che lui chiama la misura comune e quindi la possibilità anche del linguaggio come un modo sincero di esprimere le proprie intenzioni, di comunicare tra gli esseri umani, di conoscere la natura e di avere la ricerca scientifica e evidentemente anche di fare dei patti, degli accordi e quindi di stringersi la mano e di rispettare le promesse, tutto questo che riguarda la vita pratica, la vita scientifica e la stessa comunità di un linguaggio in cui si appunto condivide l'umanità, tutto ciò per Thomas Hobbes con un artificialismo molto acceso, molto spinto è creato dal contratto sociale, è il frutto di un meccanismo di pattuizione consensuale che si realizza nello stato di natura. Allora questa è un'immagine fortissima che poi si può criticare in tanti modi ma che mette in luce il metodo di totale radicalità che introduceva Hobbes nei primi decenni del 600 rispetto diciamo alla tradizione dei lunghi secoli del medioevo cristiano che era invece una tradizione in cui le istituzioni politiche e tutto ciò che è fonte di autorità non solo politica ma anche epistemologica, linguistica e derivavano da gerarchie che già si trovavano nella realtà, gerarchie che non dovevano essere fondate, che non dovevano essere create, che non dovevano essere prodotte, gerarchie tra alto e basso, tra sovrano e sudditi, in tutte le catene gerarchiche in questo, o tra il pontefice e i fedeli, tra Dio e le creature, voglio dire una serie di gerarchie che costitutivamente c'erano e andavano in qualche modo riconosciute, andavano conosciute e riconosciute. L'idea secondo me radicale obessiana è che è mescolata da altre, chiaramente è un classico, quindi ci sono tante altre cose che ora io non sto sottolineando, ma l'idea radicale obessiana è quella di pensare che le fonti dell'autorità, di ciò che è autorevole per noi, moralmente, politicamente, epistemologicamente, è creato attraverso una conversazione tra uguali. E la conversazione tra uguali è quella che prende la forma di questo, diciamo, immagine del contratto che viene fatto nello stato di natura. Allora qui c'è, quindi mi fermo, un'idea molto importante, cioè l'idea che la società e le istituzioni che la reggono è appunto frutto di un progetto inventivo, creativo degli esseri umani. Questa idea, diciamo, è lasciata in eredità e viene, come viene elaborata, adesso perché non voglio parlare appunto troppo, quindi salto a un altro punto, viene lasciata in eredità tutta una serie di filosofi successivi, poi i miei, come dire, pubblico di filosofi sono tutte cose completamente note, viene ripresa in modi diversi, ad esempio Locke è un autore che pensa che in realtà nello stato di natura ci sia già una società naturale, quindi diciamo depotenzia un po' l'elemento di artificialismo radicale di Hobbes, Hume è un critico dell'idea del contratto e quindi indebolirebbe Hume la mia idea di progetto e penserebbe che fondamentalmente la società è anche frutto di un qualche modo graduale addensarsi di convenzioni, ma anche per Hume poi di fatto la promessa, la possibilità di mantenere la parola data, l'obbligo di mantenere le promesse, Hume ugualmente le chiama virtù artificiali, sono frutto di un artificio, sono frutto di convenzioni nelle quali c'è l'interesse, l'interesse che ha portato in questa pagina del trattato sulla natura umana di Hume splendide, l'obbligo di mantenere le promesse per Hume sorge come un obbligo nuovo che non c'era in natura, a partire dall'interesse individuale che la promessa sia mantenuta e che è continuamente approvato nella società in quanto una società in cui si mantengono le promesse è una società che funziona, è una società buona su cui può convergere la nostra approvazione, quindi con un meccanismo diciamo esplicativo non contratualista anche Hume poi possiamo farlo rientrare in questa idea della società che è una macchina che realizza interessi umani. Che cosa non è molto, che cosa non c'è al centro di questa concezione che vi ho presentato mettendo insieme appunto autori anche disparati ma che possono e che conversano tra di loro come Hobbes, come Locke, come Hume. Che cosa non è ammessa al centro? Non è molto elaborato l'idea appunto di progetto individuale. Ho cominciato con l'idea di società come frutto di un progetto, individuo come frutto di un progetto, va bene? L'idea che l'individuo, che la vita individuale si svolge come un progetto non è molto sviluppato in questi autori. In Hobbes, torniamo un po' a Thomas Hobbes che poi appunto ci aiuta ad aprire diciamo l'orizzonte, in Thomas Hobbes il progetto appunto è sociale e a partire da interessi individuali che Hobbes scaratterizza in qualche modo come interessi naturali e che sono certamente molto ampi perché di fatto riguardano quella che lui chiama sicurezza che è un termine che va capito, non è la nostra sicurezza come dire securitaria che conosciamo ahimè bene, la sicurezza però, security o safety, è la condizione in cui noi possiamo sviluppare le nostre facoltà, tutte le nostre facoltà mentali, fisiche, l'intelletto, l'immaginazione, però è chiaro in Hobbes che questo sviluppo delle facoltà è come l'uso dell'intelligenza, l'uso dell'immaginazione, non appare come un campo che tu puoi investire con un tuo progetto individuale. Ecco, mettiamola così, in Hobbes, in questi autori del 600 e del 700, però evidentemente le cose gradualmente cambiano, l'individuo ha una caratterizzazione ricca, personale, antropologica, ma non si punta molto sulle diverse individualità. È la società che viene detto che per la prima volta è frutto di un progetto umano e avendo rotto diciamo il potere delle gerarchie e quello è il grande diciamo novità rivoluzionaria che viene rivendicata da tutti questi autori, mentre, in modi molto diversi, mentre diciamo l'idea che la vita individuale sia oggetto di un progetto o è assente o non è molto rimarcato. È chiaro che se andiamo avanti, arriviamo a un certo punto a Rousseau e siamo nella metà del 700, ecco è ecoevo, ecco etanio, con Hume, Rousseau è un autore dove si sente questo incipiente romanticismo e quindi evidentemente noi possiamo trovare in Rousseau delle tracce di una ricerca, di una individualità che in qualche modo è messa a repentaglio dalla società e che quindi va in qualche modo scoperta, ritrovata nella solitudine, nell'incontro con la natura, insomma Rousseau è certamente un autore che bisognerebbe leggere per cominciare a trovare queste tracce di individualità, ma queste tracce di individualità a mio modo di vedere emergono dopo, emergono dopo, un po' dopo dire la verità, ed emergono con quello che possiamo chiamare romanticismo, che è un termine estetico ma anche filosofico, di cui di nuovo voglio fare un uso molto tecnico, molto sottile se volete. Il romanticismo, che vuol dire molte cose, io lo intendo in particolare come appunto la scoperta che la vita individuale può essere pensata come un progetto e che prende la forma di una vocazione da scoprire. Questa è un'idea che noi troviamo negli autori romantici e forse quello che io chiamo romantici, che tecnicamente sono degli autori pre-romantici, illuministi e pre-romantici, e certamente il grande, un grande autore da questo punto di vista è Goethe, e quindi certamente il Willenmeister, nelle diverse versioni del Willenmeister, in particolare gli anni di apprendistato, dove c'è appunto il Willenmeister che deve scoprire la sua vocazione del commercio o del teatro, e la scopre con tutte queste straordinarie, con questa, insomma, tessitura letteraria di Goethe, in una maniera che adesso non commento con voi, ma che sarebbe anche interessante commentare perché è anche questa cruciale alla mia idea di progetto umanistico, cioè una maniera che peraltro per noi è molto problematica, ma molto importante, vale a dire con una ricerca individuale di sé, della propria vocazione, che poi si scopre che in realtà è in qualche modo ordita dall'alto, da quella sorta di, diciamo, gruppo massonico che governa tutta la storia e che governa anche la vicenda di Willenmeister. E quindi in realtà c'è un curioso intreccio tra il caso dell'avventura della vita, che è fondamentale per questi temi romantici, e un qualche tipo di necessità di chi ordisce e progetta dall'alto la vita di Willenmeister. Allora questi sono temi, diciamo, caso e necessità, avventura e necessità molto interessanti e peraltro pertinenti per il mio discorso, ma che ora evoco solo così in questa presentazione di troppe idee, di troppi autori che sto facendo con voi, uso solo Goethe, e questo possiamo chiamare come vogliamo romanticismo o pre-romanticismo, per arrivare a un altro filosofo invece autoscientesco, che è Mill, che è John Stuart Mill, perché allora arrivati a Mill è chiarissimo quello che non c'era in Hobbes e che troviamo in Mill, e naturalmente per Mill Goethe è un suo eroe, ma anche Fichte, ma insomma è un eroe questo romanticismo tedesco, letterario e filosofico, che mette al centro le avventure dell'io, le avventure del soggetto. In Mill, che è un autore liberale, utilitarista, socialista, insomma è un autore dell'Ottocento, quindi con tutta questa cultura autoscientesca che è chiaramente lontanissima da questi esordi della prima metà del Seicento in Hobbes, della cultura europea e anche delle istituzioni europee, in Mill è chiaro che emergono schematicamente, lo dico subito, emergono dei punti cruciali, che evidentemente uno non trovava prima, perché troviamo sempre l'idea di società come frutto di un progetto, ma troviamo qualcosa che intanto è maturato nella cultura europea, e cioè pensare alla propria individualità come qualcosa di fondamentale, che dobbiamo essere messi nelle condizioni di trovare, costruire, coltivare. Dobbiamo essere messi nelle condizioni, Mill è un autore democratico che ha delle componenti socialiste, siamo poi negli anni 50, quando scrive La Libertà siamo nel 1859, quindi sono negli anni 50, quindi c'è il socialismo in particolare, diciamo sindacale, che è quello con cui lui è in contatto in Gran Bretagna, mentre curiosamente non appare mai nei suoi scritti Marx, che pure era Londra in quegli anni, e ci sono le istituzioni democratiche, in particolare la riforma, le grandi riforme che sono sul piatto della Gran Bretagna in quegli anni, che riguardano i poli, riguardano l'Irlanda, riguardano il metodo elettorale, riguardano molte cose a cui Mill si dedica, è anche deputato in una legislatura nel Parlamento evidentemente della Camera Bassa. Allora che cosa troviamo in Mill? Troviamo l'idea appunto di mettere nelle condizioni, la società come un luogo che mette gli individui nella condizione di costruirsi, di fare un lavoro su di sé, che deve essere un lavoro che admira la costruzione di una propria individualità, con l'idea che ogni individualità è diversa dalle altre, ognuno poi deve avere la possibilità di scolpire se stesso e di dare un'impronta alla propria vita personale più individuale degli altri, lui dice, eccentrica, individuale, usa la parola eccentrica, che è una parola molto forte, soprattutto stiamo parlando evidentemente dell'Ottocento vittoriano, con delle grosse componenti moralistiche, conformistiche, Stefano citava anche questo tema che ci riguarda, ma l'Ottocento ha degli elementi di similitudine, quindi stiamo parlando dell'Ottocento vittoriano molto moralistico, quindi con una morale moralistica, con un filantropismo moralistico, sono i temi anche di Tickens, insomma sono i temi anche della letteratura britannica autoscientesca, allora il tema di Mill è la società come un luogo che mette l'individuo nelle condizioni di scolpire se stesso, un'espressione che uso io, che lui non usa, di dare forma a se stessi in una maniera appunto personale, creativa e per Mill dare forma a se stessi è scoprire qualcosa in sé, scoprire una propria natura che al contempo però è la costruzione di quella natura e il grande nemico di Mill è il conformismo, è non avere piaceri propri, non avere scelte proprie, non avere ideali propri, questo lo dice espressamente in questo libro bellissimo che è On Liberty 1859, la libertà sulla libertà 1859, il grande nemico è che noi continuando a seguire gli altri conformisticamente non abbiamo più, dice Mill, nostre scelte, nostri piaceri, i nostri ideali. Qual è la situazione ideale che lui immagina? Quella di individui che scolpiscono se stesso in un contesto in cui si espongono allo sguardo degli altri, all'osservazione degli altri e quindi possono costituire un esempio per gli altri, un esempio positivo o un esempio negativo evidentemente, quindi in una sorta di agonistica emulazione che è stata giustamente anche paragonata a qualcosa che troviamo forse già in Grecia, questa cosa di esporsi agonisticamente per qualcosa che probabilmente riguarda già la democrazia greca ma in alcuni suoi momenti, ma comunque sia è l'idea appunto di una individualità in cui ciascuno di noi porta la responsabilità di essere esempio per gli altri, quindi chiaramente non è un individualismo separatista, atomistico, non solo perché Mill pensa che ci devono essere delle istituzioni democratiche che consentono a tutti di dare forma alla propria vita ma anche perché il dare forma alla propria vita è un fatto fondamentalmente relazionale, dobbiamo essere completamente individui ma anche avere la forza, la capacità di esporre chi siamo agli altri e di essere quindi un esempio, un esempio che quindi funziona come dice Mill, esperimento, experiments in living, questa è la sua espressione, cioè trattare la propria vita come ho detto un progetto ma anche come un esperimento, come un'avventura e quindi sperimentarla e dare anche agli altri degli esempi su come potrebbero trattare la propria vita in maniera personale. Quindi, molte cose ci sono da dire ma arrivati a Mill abbiamo la società che è frutto di un progetto la quale deve mettere in condizione le persone evidentemente di stare bene e di essere pacifiche, però Mill dice questa l'abbiamo in qualche modo acquisita, è ovvio, non la dobbiamo ridifendere di nuovo, è ovvio che noi abbiamo bisogno di una società civile in cui le persone non si ammazzano per strada, in cui c'è la legge, c'è una giustizia e c'è un obbligo politico acquisito e che quindi diciamo ci sono istituzioni civili, questo è ovvio dice Mill, però dobbiamo fare qualcosa in più, dobbiamo avere una società nella quale ciascuno è libero di costruire se stesso e quindi portare questa idea di progetto non solo sulla società ma sull'individuo, su tutta la propria vita e Mill comincia a radicalizzare la questione perché ad esempio comincia a parlare della famiglia e allora dice ma guarda che la famiglia è organizzata in maniera tale in cui non c'è la costruzione dell'io o meglio uno solo ce l'ha, il pater familias, le donne non ce l'hanno e la prole è educata alla diseguaglianza dei generi e quindi questo concetto di famiglia non va bene, va completamente revisionato perché c'è tutto quindi il Mill diciamo delle donne assieme alla compagna e poi moglie Harriet Taylor che è una fonte di scrittura e di elaborazione intellettuale fondamentale per John Stuart Mill, quindi oppure la riproduzione della procreazione non possiamo mettere al mondo i bambini pensando che sia una cosa semplicemente di natura, è un fatto di nuovo di progetto e di responsabilità quindi lui comincia a toccare una serie di materie che magari adesso potremmo chiamare che riguardano la bioetica. Allora ultimo punto per non parlare troppo, allora qui abbiamo diciamo delle idee, proviamo a metterle in qualche tipo di schema. Abbiamo innanzitutto un'idea di trattare la società, idee che in qualche modo dovrebbero esserci familiare perché nel frattempo si sono abbastanza depositate in un qualche tipo di sapere comune che riguarda le nostre società democratiche, con un noi immaginativamente estendibile a un circuito di conversazione globale molto esteso, ecco perché poi le società democratiche, questo dico tra parentesi, sono nostre di nazioni democratiche ma sono anche nostre di tutti coloro che ci vorrebbero far parte e che non hanno la fortuna di farci parte e che ci partecipano guardandole nelle notizie, nelle serie televisive, nei film e magari volendo andarci e quindi emigrando. Quindi diciamo questo noi democratico io vorrei che fosse non un noi delimitato da confini di chi ha titolo di votare in una nazione democratica ma è un noi immaginativo di tutti coloro che partecipano di questa conversazione democratica globale. Che cosa abbiamo acquisito, questa era una parentesi che chiudo ora, che cosa abbiamo acquisito come conoscenza tacita nelle nostre società democratiche. Abbiamo acquisito appunto queste idee che provo a schematizzare dicevo, una che la società è appunto un oggetto di progetto e questo progetto riguarda certamente innanzitutto stando con Ops quella che lui chiama la sicurezza personale vale a dire lo sviluppo delle facoltà individuali che quindi devono essere da una parte non minacciate dalla violenza, cioè da quella che Ops chiamava la morte violenta dell'aggressore e in positivo essere messi nelle condizioni di sviluppare tutte le proprie facoltà mentali e fisiche. Poi questa cosa si allarga, si allarga nel senso che con Mill la vita individuale diventa progetto, quindi le condizioni non sono semplicemente di usare l'immaginazione, la mente e le emozioni, ma di trattare la propria vita come un'avventura a cui possiamo provare a imprimere una direzione. La vita come sperimentazione, sperimentazione e avventura sono temi di Mill, sono temi di un altro grande filosofo democratico americano che si chiama John Dewey e sono temi che poi riguardano anche il mio, se volete, microprospettiva filosofa, micro per modo di dire, diciamo specifica prospettiva filosofica che è quella di Wittgenstein e dell'etica wittgensteiniana, ma questo e poi mi pare che Silvia lavora su Mordok e quindi diciamo idee che sono a casa lì, cioè l'idea di sperimentazione e di avventura sono idee che sono a casa lì, quindi con Mill, ho aperto di nuovo, chiudo una parentesi, abbiamo l'idea di trattare la propria vita come un'avventura, come una sperimentazione a cui possiamo provare a dare una direzione, con Mill abbiamo anche l'idea democratica, allora l'idea democratica che cos'è? almeno un paio di idee, da parte l'idea di uguaglianza, cioè che tutti siano messi nelle condizioni di dare, sperimentare e di trattare la propria vita come un'avventura, come una sperimentazione a cui imprimere una direzione, questa è un'idea, perché l'idea di sperimentazione e di avventura può anche essere senza democrazia, Mill nella libertà dice io sono d'accordo fino a un certo punto con Humboldt, poi basta, perché questa idea humboldtiana era l'idea che in qualche modo per avere l'individualità serve il conflitto forte, serve la guerra, serve l'agonismo della guerra, non serve certo la pacificazione della democrazia, cioè l'individualità e la vita come avventura può essere anche portata a difendere condizioni appunto di guerra, può essere, adesso un grandissimo autore che cito e poi non lo sviluppiamo, Nietzsche, allora in Nietzsche la critica di Nietzsche alla democrazia, al socialismo, al filantropismo, al movimento dell'eguaglianza con le donne, diciamo quella critica lì che fa Nietzsche, tolta via da tutte queste cose stupide ovviamente del nazismo che non c'entrano nulla, diciamo queste critiche di Mill al timore dell'appiattimento democratico, di Nietzsche al timore dell'appiattimento democratico hanno una motivazione che è uguale a quella di Mill e appunto vanno contro la democrazia, quindi mettere insieme la difesa dell'avventura, della vita come avventura e sperimentazione con la democrazia è un'idea originale e normativamente contesa che può essere criticata, quindi non è ovvia, non è in nessun modo ovvia, perché ci sono vari episodi intellettuali in cui l'elemento di individualismo se volete radicale di Mill è emesso contro la democrazia, in Mill è a favore e anche in Dewey e anche in questa linea intellettuale che provo a presentarvi, quindi abbiamo l'idea di società come progetto, di vita individuale come avventura nella quale in qualche modo proviamo a srotolare un progetto e quindi abbiamo l'idea di mettere nelle condizioni tutti, quindi dicevo democrazia, mettere alla condizione tutti di provare a trattare la propria vita come progetto e ultima idea collegata con questa, quindi trattare la società non solo come istituzioni liberali, non solo come istituzioni che garantiscono condizioni di vita, ma anche come il luogo dove noi viviamo e di cui ci prendiamo cura, il luogo dove noi incontriamo noi stessi e gli altri, dove noi possiamo essere esempi agli altri e forse anche esempi a noi stessi, tutto questo è il campo del perfezionismo e a mio modo di vedere il filosofo che l'ho espresso meglio, un filosofo americano che si chiama Stanley Cabell, di come noi possiamo appunto educare la nostra esperienza nell'incontro con gli altri, essere esempio a noi stessi, agli altri. Allora ho parlato più che troppo, chiudo con una chiusa, ho introdotto troppi temi e quindi mi dispiace. Allora queste idee io penso che sono molto, come dire, ho provato a darne un sviluppo storico tra 600, 700, 800, Cabell è un filosofo che è morto qualche anno fa e che torna su questi autori, torna su Mill, torna su Emerson che è praticamente il coetaneo in un coté diverso, Mill è un ateo, Emerson è stato anche un pastore nella Nuova Inghilterra, ma sono figure che si corrispondono in questa difesa perfezionistica della vita come scoperta, come avventura in un quadro democratico. Bene, queste sono idee che hanno uno sviluppo storico, dicevo, tra 600, 700, 800, ma sono anche idee che possiamo mettere insieme come una opzione normativa, che io personalmente appunto vorrei difendere, cioè trattare la società e l'individuo come progetto, in questo senso in cui ho provato a presentarlo. Queste idee qua possono essere applicate, ora però non lo faccio, eventualmente possiamo continuare nella nostra conversazione, alla società contemporanea. Allora a mio modo di vedere, quindi Stefano se posso parlare ancora 5 minuti poi chiudo, a mio modo di vedere sono idee che possono guidare il cambiamento, ma possono anche risultare sconfitte dai cambiamenti grossi. Nella mia interpretazione i temi della bioetica sono sul crinale, ma io tenderei a vederne delle grandi chance, come dire, di miglioramento dell'umanità dal punto di vista del progetto umanistico. Cioè io penso che avere portato la riproduzione e la morte sotto il controllo del progetto individuale, della donna e di tutti noi che a un certo punto affronteremo la prospettiva della nostra uscita dalla vita, sia, nonostante dovrei discuterne delle problematicità e quindi dei pericoli per il progetto umanistico, io penso che siano coerenti con l'idea di progetto umanistico. Quindi penso che, diciamo, i temi grossi della bioetica, prendiamo solo quelli principali all'inizio e alla fine della vita, quindi ripeto, avere portato sotto il controllo, anche legislativamente con tutto un processo che ora non sto a evocare, che è anche in corso evidentemente, avere portato l'inizio e la fine della vita sotto il controllo individuale è stata un'occasione di, a mio modo di vedere, tutta ancora da realizzare, una volta acquisite le leggi, di estendere il progetto anche a questi limiti della vita e non considerare che ci sono dei limiti sottratti dal progetto e quindi dall'avventura, dalla sperimentazione, ma anche dalla costruzione di un proprio io, di una propria integrità. Va bene? E questo è un grande campo che possiamo esaminare. Altro grande campo, perché ho citato due temi, la bioetica e l'intelligenza artificiale. Allora ho provato, ho cominciato un pochino a interessarmi, ma in maniera molto profana, molto anche se volete semplice a questi temi. Allora lì vedo, anche perché siamo all'inizio, molto più aperta la questione. Poi ci sono anche altri temi che è lo sviluppo, se volete, del capitalismo globale, delle grandi istituzioni, diciamo di governo del pianeta, che non tocco in nessun modo. Ma stiamo a questi due temi strettamente etici, di bioetica e di intelligenza artificiale. Nel caso dell'intelligenza artificiale mi sembra molto aperta la questione, nel senso che è evidente la chance di trasformazione completamente positiva per l'umanità nell'uso di queste tecnologie. e forse quella che sarà più straordinaria sarà la medicina, con una possibilità di diagnosi fondamentalmente, di malattie, che trasformerà completamente la medicina, rispetto a affidarsi a dei screening sui quali va la mente di un singolo individuo, di un singolo professionista. Quindi lì lo vedremo, ma mi sembra di aver capito che quella sarà un punto gigantesco. Il punto dell'intelligenza artificiale però effettivamente è anche che ci sono schemi intellettuali, che sono questi famosi machine learning e deep learning, in cui questi algoritmi lavorano su se stessi e lavorando su grandi dati, adesso non entro nel dettaglio, non potrei entrarci troppo nel dettaglio, ma non entro neanche superficialmente, arrivano dei risultati. Lavorano su grandi dati di qualsiasi tipo di cosa, se stiamo parlando di un suggerimento di Google, un suggerimento di Amazon o appunto un suggerimento dato a un medico sulla presenza di una malattia cardiaca o tumorale. In tutti questi casi, questi algoritmi offrono, diciamo, delle indicazioni sulle quali ci sarà una decisione umana, ma potrei introdurre anche la finanza, insomma tutti i campi dove ora è già utilizzata l'intelligenza artificiale offrono dei suggerimenti sui quali ci sarà una decisione umana o la decisione già presa dalla macchina, ovviamente questo è stato però preimpostato, sulla base di schemi intellettuali che sfuggono alla comprensione. Tema tecnico, che viene presentato, il famoso black box, diciamo il fatto che sono schemi che sfuggono. Allora io lì, questa cosa poi è molto più ampia, adesso veramente sono in chiusura, riguarda il fatto di avere dei droni militari, la guerra è una cosa orribile ma è difficile pensare che finisca rapidamente sulla faccia del pianeta, ovviamente è quello che auspichiamo, certamente in questo contesto lo do per acquisito, ma se va avanti con dei droni, anche lì, oppure la cura degli anziani, in questi casi stiamo parlando di droni, di robot, nell'altro caso stiamo parlando semplicemente di risultati intellettuali che ti vengono dati a un professionista li quali li devi usare. In tutti questi casi ci sono schemi intellettuali sulle quali vengono prese delle decisioni che non sono padroneggiati, neanche dagli esperti che hanno messo in piedi il lavoro degli algoritmi. Allora lì c'è qualcosa secondo me di importante che ci riguarda, che non si deve mai fare a mio modo di vedere in termini parossistici di messa a repentaglio dell'umanità, secondo me questi sono dei contrasti che per carità abbiamo visto con il nazismo eccetera, ma non bisogna abusarne. Ecco, ma effettivamente lì c'è da riflettere, nel senso che il progetto umanistico e con questo chiudo, perché ho veramente usato troppo il tempo e quindi chiudo, il progetto umanistico che vi ho descritto è fondamentalmente, è molto ambizioso e quindi è anche criticabile, ma è molto ambizioso, è fondato sull'idea di elaborare schemi intellettuali alla luce dei quali controllare e imprimere la direzione, alla società e agli individui. Schemi intellettuali che ci sono trasparenti perché li abbiamo elaborati noi. Questa è l'immagine semplice, semplice, che emerge nel Leviatano di Thomas Hobbes. Le istituzioni noi le conosceremo, conosceremo come funzioneranno perché le abbiamo elaborate noi. Noi abbiamo dato le istruzioni a questa macchina istituzionale ed ugualmente vogliamo pensare che la nostra vita, che è un'avventura in cui c'è caso, necessità che si intrecciano, e ugualmente noi le abbiamo dato una spinta, delle spinte, abbiamo realizzato delle svolte. Quindi che ci sono trasparenti questi cambiamenti, questi schemi intellettuali in base ai quali imprimiamo svolte e diamo spinta e ci sono trasparenti. Allora qui noi potremo trovarci nella situazione in cui queste decisioni, forse poi naturalmente continuiamo a prenderle noi, ovviamente questi sono strumenti, adesso l'intelligenza artificiale è tutto insieme a una congeri di strumenti, ma in qualche modo quella fiducia di schemi intellettuali che ci sono ignoti. Allora io lì vedo dei problemi, perché il progetto umanistico è un progetto etico, un progetto democratico, ci sono grandi nazioni sul pianeta che non sono interessate al progetto umanistico, come un progetto etico democratico, che sono innanzitutto la più grande nazione tecnologicamente avanzata che è la Cina, e questo in termini politici diciamo, e in termini tecnici l'intelligenza artificiale e diciamo il tipo di capitalismo che la favorisce potrebbe andare verso una direzione non tanto immediatamente non democratica, che sono anche di temi un po' troppo grandi, ma appunto di opacità e di perdita di quell'idea, non ho mai usato la parola ma ora la uso in chiusura, illuministica e romantica, di elaborazione di schemi intellettuali per dare una direzione alla società e dare una direzione alla propria vita. Se andiamo nella direzione dell'opacità io vedo effettivamente dei problemi, perlomeno per quel tipo di concezione normativa che vorrei difendere, cioè pensare che la nostra società e le nostre vite funzioni l'immagine del progetto umanistico, che possono essere presate come un progetto che va in una direzione che in qualche modo abbiamo impresso noi. E penso che a questo punto ho anche esaurito il mio tempo e termino qui, vi ringrazio.